Anche quest'anno si è tenuta la settimana mondiale della tiroide per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle patologie tiroide. Il tema scelto per l'edizione 2022 è tiroide e salute, io mi informo bene, ovvero la promozione di una corretta informazione su questa ghiandola così importante per il nostro benessere. I casi di tumore alla tiroide sono aumentati ma per fortuna non è cresciuta la mortalità. Pare che ci sia effettivamente un aumento, diciamo subito che per quanto riguarda il tumore della tiroide è aumentato negli ultimi tempi, soprattutto i microcarcinomi, cioè i tumori che hanno meno di un centimetro, però la mortalità, cioè la saproprivenza non si è modificata, è la stessa e questo ci deve tranquillizzare. Noi stiamo facendo nella Valle del Sabato una indagine, sì perché ci sono delle sostanze tossiche, infatti è stata fatta una indagine molto ben fatta dall'Istituto Zooprofilattico di Napoli, dal dottore Limoni, ed è stato visto che ci sono delle sostanze, metalli pesanti, pesticidi, le quali sostanze possono interferire con la tiroide, il famoso endocrine di strappato, interferente endocrine e possono comportare dei problemi alla tiroide. Abbiamo fatto delle iniziative come l'Ameira, l'Associazione Malata Endocrine Irpinia, che insieme ad altre associazioni in Italia abbiamo costituito il CAP e quindi oggi ci sono iniziative in tutta Italia e l'Irpinia non è da meno.